ciao a tutti amici ben ritrovati oggi registro questo video da una location un po particolare cioè dalla mia macchina semplicemente perché ho appena finito l'appuntamento di consulenza con una coppia di clienti che mi hanno fatto per la milionesima volta le stesse tre domande fondamentali domande a cui io voglio dare immediata risposta o meglio voglio cercare di farvi capire quelle che sono le risposte potenziali a queste domande innanzitutto se lo avete fatto iscrivetevi al canale attivate la campanella in modo da non perdere nessuna delle prossime puntate e soprattutto lasciatemi una valanga di like ai video per farmi capire che mi volete bene che mi seguite e soprattutto che supportate la mia attività di informazione bene quali sono le domande più importanti a cui tutti i giorni io sono chiamato a rispondere sostanzialmente tre qual è la banca migliore sul mercato oggi qual è il prodotto di mutuo più conveniente qual è il tasso migliore sul mercato oggi bene la risposta a tutte queste tre domande è soltanto una non esiste quindi non esiste banca migliore non esiste prodotto di mutuo migliore non esiste tasso migliore semplicemente perché non tutte le situazioni che le banche vanno ad analizzare sono identiche perché perché tutti quanti noi abbiamo delle diverse situazioni familiari delle diverse situazioni lavorative delle diverse capacità di produrre risparmi e di generare reddito e soprattutto perché non tutti finanziamo gli stessi importi bene allora qual è il parametro per cui si deve scegliere una banca piuttosto che un'altra un prodotto di mutuo piuttosto che un altro innanzitutto cominciamo a ragionare sul fatto che questo tipo di risposta sostanzialmente la fornisce la banca ovvero le banche cosa fanno fanno dei listini quindi delle offerte dei loro prodotti finanziari al pubblico è il pubblico che poi si deve allineare all'offerta della banca per riuscire ad aderire a una determinata a una determinata forma di finanziamento mi spiego meglio immaginate una persona che è single guadagna 2500 euro al mese è dipendente compro una casa da 200 mila euro e finanzia 100 mila euro ovviamente l'offerta che può essere formulata a un tipo di cliente del genere non può e non deve essere la stessa che viene formulata magari una persona che è autonomo ha un reddito medio mensile di 1400 euro e con questi soldi deve mantenere magari una moglie e un figlio e magari non fa un mutuo al 50 per cento ma probabilmente alla richiesta un filo più alta quindi dall 80 al 100 per cento questo esempio perché perché voglio introdurre un concetto che non è sicuramente nuovo non me lo sono inventato io ma era stato introdotto un bel po di tempo fa da un noto istituto bancario di cui non faccio il nome perché lo sapete non amo fare pubblicità nei miei video perché l'informazione la voglio sempre indipendente in cui era stato introdotto un concetto molto interessante che era il concetto del price at risk ovvero del prezzo in funzione del rischio cioè a un cliente può essere concesso un prodotto di mutuo un tasso una tipologia di finanziamento correlata a quello che il rischio banca ovvero più la banca rischia a finanziare quel tipo di cliente a finanziare quel tipo di operazione più ovviamente il tasso di interesse sarà alto semplicemente perché il rischio banca è più elevato rispetto al rischio cliente se il cliente ovviamente ha un apporto economico importante quindi finanzia una parte dell'operazione d'acquisto a un reddito elevato una buona capacità di risparmio di conseguenza la banca rischia meno quindi può applicare delle condizioni economiche sicuramente più di favore e migliorative per il cliente quindi ragazzi cerchiamo di capire questo che non basta andare su un preventivatore online fare il giro delle sette chiese per tutti gli istituti di credito e farsi fare semplicemente dei preventivi perché i preventivi come dico sempre sono e rimangono fine a se stessi ovvero l'aspetto che deve essere valutato non è tanto quello dell'offerta praticata al pubblico dalla banca ma deve essere valutato quello che è il merito creditizio e soprattutto la possibilità e la capacità di dimostrare alla banca che quel tipo di cliente sarà in grado di onorare l'impegno preso nel medio e lungo termine quindi più è la banca tranquilla che rientrerà del capitale finanziato senza problemi senza particolari intoppi più ovviamente sarà condiscendente nel praticare delle condizioni economiche migliorative più ovviamente il profilo del cliente si deteriora quindi il rapporto rata reddito è tirato la percentuale di intervento oltre 80 per cento e altre situazioni che ben conosciamo perché le abbiamo viste un po nei video precedenti anzi se non avete avuto modo di guardarli andatele recuperare dateci un'occhiata perché sono molto molto importanti e vi aiutano a capire quelle che sono le fasi e tutti gli step di una richiesta di finanziamento dal momento in cui si portano i documenti fino al rogito lotarile quindi cerchiamo di capire questo il preventivatore il preventivo fisico presso la filiale è utile giusto per avere un'idea di quello che può essere un ipotetico intervento di spesa mensile di quella che può essere un ipotetica rata però poi nella fattispecie bisogna analizzare se il profilo di quel cliente si sposa con quelle che sono le caratteristiche e l'offerta commerciale di quell'istituto a cui in quel momento stiamo facendo riferimento quindi ragioniamo sempre con l'ottica di dire ok perfetto il preventivo è una prima infarinatura è un primo approccio al mondo del credito però quello che dobbiamo capire è chi fondamentalmente siamo noi o meglio di quanta sicurezza possiamo dare noi alla banca nel momento in cui ci va a fornire credito perché più siamo passatemi il termine belli agli occhi della banca più sicuramente potremmo ottenere delle condizioni competitive e delle condizioni di favore rispetto alla concorrenza ragazzi bene mi faceva piacere fare questo video come vi dicevo quasi in presa diretta con voi perché l'argomento mi rendo conto che è molto molto di attualità e soprattutto è un aspetto su cui pochi vi portano a riflettere quindi tutti quanti sono bravi nel spararvi il preventivo più basso sul mercato per acquisire il potenziale cliente poi molto spesso mi rendo conto che questo preventivo non viene mantenuto le vostre attese vengono un pochino deluse le vostre aspirazioni vengono un pochino deluse quindi il concetto fondamentale è sempre lo stesso cerchiamo di fare una buona analisi della situazione finanziaria della famiglia del cliente in base a questa situazione ci andremo a rivolgere al mercato quindi andremo a trovare quella che la condizione migliore non in assoluto ma migliore per il nostro profilo per il momento è tutto grazie al prossimo video ragazzi buona giornata ciao ciao